E partina forte Pavlyuchenko va E si sblocca Sempre presenti dell'Alep Grandissimo Non una grandissima scelta No, non ci credo Cosa ha giocato Pavlyuchenko? Infatti è lei perché questo è un colpo pazzesco E in un momento anche importantissimo Proprio sulla riga Ma si era visto anche in presa diretta Ci arriva l'Alep Gioca il passante Provato Provato Bravissima Pavlyuchenko va Ha intuito Ha giocato un Sulla riga Concentrazione dell'Alep Perfetto Chiude col dritto In maniera molto Grande risposta Il dritto al volo Ciudad Perfetto Quasi 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 Sulla sangra Chiude con il rovescio in salto Giocato bene Pavlicenko ha Indovina E' ricacciata indietro la Pavlicenko E alla fine chiude con il dritto Lungorini Teria Pavlicenko ma non può salvare No sbagli la vorrei dritto Risposta vincente Non molla Pavlicenko e si procura L'hai rifatto? Non tocca Chiude con il Lungorini a Simon Alep 7-6 Qualifica per la semifinale del WTA di Cincinnati